Senatore, cosa emerge da questo rapporto rispetto alla competitività delle imprese italiane? Innanzitutto è un rapporto che offre tantissime informazioni, tantissimi dati, anche molto originali. Ci dà uno spaccato dell'industria e del sistema produttivo italiano come di un proprio sistema diviso a metà. C'è una parte di imprese che si è ristrutturata, che è attiva sui mercati internazionali, che va bene, ma copre un 30%. La gran parte delle altre imprese in realtà è ancora in mezzo al guado, cioè è alle prese con problemi di diventare più grande, di investire, di poter in qualche modo diventare internazionale. Questa divisione, questa frammentazione fa sì che il sistema produttivo italiano innova poco, cioè fa poca innovazione. Se si fa poca innovazione si cresce poco e io credo che questa sia una delle ragioni per cui l'Italia, pur essendo tornata in una fase di ripresa, è positivo, continua a crescere molto meno dei partner europei. E naturalmente bisogna intervenire per cercare di traghettare molte di queste imprese che sono ancora in mezzo al guado verso il segmento virtuoso. Questa è un po' io credo la lezione che io traggo e l'implicazione di politica, quindi delle cose da fare.